Pochi giorni fa sono andato a girare un po' di contenuti insieme a Dario Ignali nella sua ridente Ferrara Così ho preparato giusto quelle due cosette sufficienti per creare un set come piace a me Due cosette proprio E sono partito Sto raggiungendo Poi Andario Ignali è la stazione di Bologna dove lui aspetterà di ritorno da Milano Perché da domani mattina ci aspetteranno tre giorni intensi di deep work e registrazione di tanti tanti nuovi contenuti che stanno per uscire Da Fabriano a Ferrara sono circa tre ore di strada Il viaggio è andato piuttosto bene Poi a me piace guidare In più questa volta mi ero portato un accessorio nuovo con il quale avevo deciso di ricominciare a vloggare Raccontare i giorni appunto che avrei trascorso insieme a Dario E' il volone? Monna come va? Come va il be? La copra 8 non è andata più bene ora c'è Esatto Il microbo Vi faccio vedere il momento esatto in cui l'ho venduto a Dario Tac Eeeh Eeeh Come è andata? Minchia paura macchina a Barcellona avessi stato il sole No, va Categoria vlog mai montati Step numero uno comprate questa cazzo di Lo sto convincendo perché è reticente L'ho attaccata sul cuore e ha detto minchia sul cuore Però praticamente da quando sono arrivato alla vista mi ha fatto un po' di domande Si ma i formati, la comodità, la batteria Con aria saltezzosa te l'ho fatta Quindi non stupitevi Poi quando ho iniziato a toccare con mano ho sentito questa cosa piccolina nelle mie mani Con un grande potere C'è solo motivo perché ancora non ha fatto acquista su Amazon E' perché è bianca Perché se era nera Ciao E sulle note dei venditti che ci lasciamo alle spalle Non era la scolosa Non era la scolosa Andiamo a dormire perché domani mattina cominciamo a palla di fuoco Appena rientrati a casa ho deciso di cominciare a fare già un po' di spazio per il giorno dopo La giornata comincia presto, facciamo un bel caffettino e cominciamo subito a montare Dario è lì che mi aspetta, mi dà una mano intanto studia Io ho i miei tempi per allestire il set perché voglio che sia perfetto, preciso e funzionale E così dopo un po' di sistemazione accendo le luci colorate Un altro caffettino e si comincia con il primo ciac E direi che per questo video è tutto e ci vediamo nella prossima lezione Ciao Allora momento nostalgia Praticamente stiamo rispolverando alcune cose vecchie E praticamente abbiamo ritrovato i vecchi brani delle prime produzioni che abbiamo fatto insieme Chi la riconosce questa senza aver nomi? Allora Vigneletto stamattina ha girato non due, non tre, non quattro, ma ben sette lezioni Sei lezioni Ok scusate, se vi state chiedendo il motivo di tutti questi bip, di tutte queste sfocature È perché ad oggi, al giorno della pubblicazione, non posso ancora rivelare il progetto al quale stavamo lavorando Se volete azzardare qualche ipotesi potete lasciarmela scritta nei commenti Adesso facciamo un pranzetto e ricominciamo e ne giriamo altre cinque Cazzo di storia, come treni vecchi Con l'aria condizionata che sfiora ai 12 gradi, le giornate a casa Marketers trascorrono molto velocemente E tra un ciac e un cambio d'abito ci portiamo via scioltezza alle prime 25 lezioni Yes Facciamo un momento rimandato a lungo che sta per arrivare Il buon Vignali, che è un po' stanco, sta per andare a fare il vaccino, guardate come è preoccupato Sei carico, man? No Ho paura di svegliarmi domani e star di merda Lui si era fischia, ma in realtà è arrivato il momento della verità No, no A dire, già solo basta tutto il tempo a impararmi a me Andiamo a cena fuori Diretti? Vecchio ora ci ha detto qualcosa? Dai, il 70-200 te lo accetto volentieri Con un 1% di Marketers sì assolutamente La vaccinazione anti-Covid Ma anche tu hai fatto questa roba? Sì Allora, Vignali è appena entrato ai box vaccinali e tra un po' uscirà Ma che l'è l'ansia, te lo dico io? No, no, è vero, è vero, è vero, è vero Come è stata questa esperienza, vedi? Ma è stato male È bella Ferrara, bel? Bellissima, città top Come si chiama sta cosa? Ferrara Food Experience Ci andiamo a mangiare? Assolutamente sì Ci attiviamo al parcheggio Di vieto di sosta Ma non è legale con di vieto di sosta Abbiamo trovato questa cosa qua, che è bellissima, tutto all'aperto Guardiamo un po' cosa sta giro, no? Poi abbiamo gli oristicini che tirano un sacco l'attenzione Ma adesso è la scelta più banale in assoluto Però se sono buoni, se sono buoni Eh, lo so, però vuoi mettere la storia degli olivi Eh Scusa, ho trattato il microfono Stiamo riguardando i primi risultati Allora, oggi abbiamo girato altre 5 o... 5 o 6? 5 lezioni Ma nel frattempo stiamo vedendo i primi risultati Che il buon manual ci ha mandato già montati È presissimo Oggi Dan non si è stato troppo produttivo, secondo me Però... Eh, io ho anche lavorato oggi Vorrei riguardare 5 video più lavoro Call di lavoro Madonna, se non fosse tutto documentato Penserei che è una cazzata Comunque adesso pausetta pranzo Però non pasta, perché sennò ci abbottamo Quando uscirà questo vlog si potrà menzionare Ma perché uscirà questo vlog? Certo Mi stai provocando, eh Ma tutti benvenuti in questo nuovo Video E fai vedere il mio look Davvero quello sarà già tutto televisivo Preparo il primo caffè dell'ultima giornata di shooting Tre giornate insieme a Drago Vignali sono praticamente volate Queste session di registrazione ci spaccano Ma ci riempiono di soddisfazione Sono 6 anni che con il VET Ci ritroviamo periodicamente per registrare contenuti Di solito lo facciamo viaggiando Unendo un po' l'avventura Alla condivisione di valore attraverso il video Questa volta invece a Ferrara Dove tra l'altro a breve nasceranno i Marketers Studios Era tanto che non vloggavo Mi mancava Questa è stata l'occasione perfetta per rimettersi in gioco Complice forse anche questa piccola videocamerina Con la quale sicuramente non si riesce a fare cinema Come dicono a Roma Ma che mi consente di riportare a casa qualche ricordo di viaggio E di condividerlo con voi E mentre registro questo voiceover Penso Se avessi voluto vloggare con la Sony Sarai riuscito a portare a casa questo ricordo? Forse sì, forse no Sicuramente sarebbe stato più sbatti Comunque vabbè Ho lasciato il VET all'aeroporto Ripartiva per la Sardegna il maledetto A me invece mancavano altre due ore e mezza di strada Per tornare a casa Ma nel frattempo Ricevo un messaggio del Cresi Io sto andando a Ferrara Poi dicevo potrei allungarmi Potremmo farci stanotte in tenda Potremmo davvero andare al Monte Cucco Potremmo accendere un fuocherello Non sarebbe male, cazzo A me sembra ancora